È il 30 agosto 1930. Siamo a Omaha, nel Nebraska, Stati Uniti d'America. Il politico Howard Graham Buffett e sua moglie Leila Stoll hanno un bambino, il loro secondo figlio. Lo chiamano Warren Edward. Per tutti Warren, il futuro oracolo di Omaha. I suoi genitori se la passano bene con i soldi e sono persone colte, influenti e attenti al tema dell'istruzione. Warren, fin da piccolissimo, viene indirizzato alla lettura, all'ascolto, al ragionamento. Suo padre lavora tantissimo, agli inizi degli anni 40 verrà eletto per la prima volta al Congresso degli Stati Uniti e si trasferirà a Washington, nel centro del potere politico americano. Warren è un ragazzino sveglio e brillante, con un'abilità matematica che lascia senza parole. È capace di calcoli a mente con cifre pazzesche, fin da piccolissimo. Inizia a frequentare la scuola elementare Rose Hill, a Omaha, e quando ha solo sette anni, nella libreria pubblica della città, trova un libro. Un libro che segnerà la sua formazione e, in qualche modo, il suo destino. Il libro in questione è One Thousand Ways to Make One Thousand Dollars. Mille modi di fare mille dollari. Un libro pubblicato nel 1936 da Francis Menacher. Il libro offre qualche consiglio su come fare soldi a partire anche da investimenti minuscoli di qualche dollaro appena e racconta storie di individui che ce l'hanno fatta nel mondo dell'imprenditoria, partendo da zero. A dirla tutta, il libro non è un granché, ma colpisce l'immaginazione del ragazzino che scopre immediatamente una passione bruciante per l'attività commerciale, imprenditoriale e per il denaro. La sua infanzia è costellata ad iniziative di vario tipo. Il giovane Warren si dà da fare, vende gomme da masticare, bottiglie di Coca-Cola, riviste porta a porta, lavora nel negozio di alimentari del nonno, poi comincia a distribuire quotidiani, in particolare il Washington Post, con cui guadagna quasi 200 dollari al mese, che a quei tempi valgono come 2000 dollari di oggi, sono una montagna di soldi per un ragazzino. Vende pallini da golf, francovolli, qualunque cosa su cui riesca a mettere le mani. Mentre frequenta la scuola, avvia tutti i suoi piccoli business. A 14 anni presenta la sua prima dichiarazione dei redditi al fisco e paga le tasse, chiedendo però una deduzione di 35 dollari per le spese di utilizzo della sua bicicletta. A 15 anni compra insieme ad un amico una macchina del pinball e la piazza nella bottega di un barbiere. Nel giro di qualche mese ha piazzato diversi pinball in diversi esercizi di Omaha e il business non fattura niente male. Lo venderà poi interamente qualche mese più tardi. Ma non gli basta. Compra con i suoi risparmi una fattoria di 40 acri e investe pure nel business agricolo. Nell'almanacco del suo liceo, il Woodrow Wilson High School, fa scrivere gli piace la matematica, sarà un futuro broker finanziario. Alla fine delle scuole superiori Warren ha da parte quasi 10.000 dollari che per farvi capire sono l'equivalente di 100.000 euro di oggi e non ha ancora compiuto 18 anni. A questo punto si confronta con la sua famiglia, non gli interessa il college, non gli interessa lo studio superiore, vuole buttarsi di brutto nel mondo degli investimenti e continuare a far crescere le sue attività. Ma suo padre, il senatore Buffett, ha una risposta secca per lui. No, ne va del prestigio della famiglia, del suo buon nome e, a parede appunto del padre, anche del suo futuro. Così Warren viene costretto ad iscriversi e frequentare la leggendaria Wharton School all'Università della Pennsylvania, probabilmente la business school più famosa, esclusiva, costosa e qualitativa del mondo. Qualche nome di un paio di studenti che hanno frequentato Wharton e che potreste conoscere. Elon Musk, Donald J. Trump, John Scully, il famoso CEO di Apple che licenziò Steve Jobs, Sander Pichai, l'attuale CEO di Google, Alex Gorsky, il CEO di Johnson & Johnson e potremo andare avanti. Ma fermiamoci. Warren non è granché interessato allo studio, lo abbiamo detto, ma se la cava come in tutto del resto. Rimane a Wharton due anni, poi si sposta all'Università del Nebraska, poi prova ad entrare ad Harvard, ma viene rifiutato. Si iscrive alla fine alla Columbia per seguire le lezioni di Benjamin Graham, un investitore che ammira moltissimo, e si laurea lì, nel 1951. In economia, ovviamente. Il primo lavoro dipendente della sua vita lo trova immediatamente dopo la laurea. Del resto è un po' raccomandato in questo caso, perché diventa un promotore finanziario per la Buffett Falcon Company, società di investimenti messa in piedi dal padre. Ci lavora tre anni, poi passa a fare l'analista, cerca di andare a lavorare a Wall Street, ma ancora una volta suo padre glielo sconsiglia. Tra il turbinio di iniziative, lavori, incarichi, esperimenti, c'è un aneddoto che è interessante da raccontare e che ci tornerà utile più tardi per capire qualcosa. Warren scopre che il suo mentor e insegnante alla Columbia, Benjamin Graham, con cui vuole lavorare da sempre, siede nel consiglio d'amministrazione di Geico, un colosso americano delle assicurazioni. Così si piglia un treno, arriva a Washington un sabato e si mette a bussare con insistenza sulla porta del palazzo di Geico, finché qualcuno non decide di aprirgli. A quel punto entra, bracca il vicepresidente, Lorimer Davidson, e si fa spiegare come funziona il loro business, fin nei minimi dettagli. Se ne sta ad ascoltare per ore e a fare domande. Davidson stesso ricorderà quell'episodio e quel ragazzino così insistente e acuto, dicendo che dopo soli 15 minuti di conversazione con Warren Buffett si era reso conto di avere di fronte un personaggio straordinario, qualcuno che avrebbe sicuramente fatto parlare di sé. Lì, in quel momento, nel cuore del business delle assicurazioni americane, Warren capisce qualcosa che segnerà il colpo di genio che lo renderà uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo per i successivi 50 anni. Ci ritorniamo dopo, segnatevelo. A un certo punto Buffett si rende anche conto che gli piace insegnare, e così si iscrive a un corso di public speaking tenuto da, niente po' di meno che, Dale Carnegie, il padre di tutto quel movimento di self-help e motivazione all'americana che tanto mi piace prendere in giro. Lì però Warren impara a parlare in modo convincente, e così comincia pure a insegnare a un corso serale all'università. Tanto per fare. I suoi studenti, in media, hanno il doppio dei suoi anni. Ah, dimenticavo, in quel periodo si compra pure una pompa di benzina, ma quell'investimento gli va male e ci perde un po' di soldi. Capita. Tra un investimento e l'altro trova pure il tempo di innamorarsi di Susan Thompson, una ragazza anchessa di Omaha, attivista per i diritti civili. Susan ha un ragazzo, e quel ragazzo affascinante suona l'ukulele. Per competere con lui, Warren impara a suonare, e da allora non ha mai smesso. Ma Susan non è impressionata, e il tentativo fallisce. Ma Warren non è abituato ad arrendersi. Qualche anno più tardi, Susan e Warren si sposano e hanno tre bambini, Susan Ellis, Howard Graham e Peter Andrew. Alla coppia piacciono i doppi nomi, sembrerebbe. Ma è nel 1956 che questa storia arriva a un punto di svolta. Buffett in quel momento sta lavorando per la società di Benjamin Graham, che però a un certo punto se ne va in pensione. E allora Warren prende tutti i soldi che ha da parte, l'equivalente di un milione e mezzo di dollari di oggi, e apre la Buffett Partnership LTD. Qui, nella sua realtà, quella che controlla da cima a fondo, Warren scatena tutto il suo genio e quello che ha imparato nel suo percorso di formazione. Ma per spiegarvi esattamente come ha funzionato tutto questo, ho bisogno di chiedere l'aiuto di qualcuno che capisce davvero questi meccanismi. Alessandro Lazzaro, il mio carissimo amico, collega, esperto di investimenti e storico appassionato di Warren Buffett. Spiegaci quello che ha fatto. Nel mondo degli investimenti ci sono due modi per fare i soldi. O si investono i propri e si spera di moltiplicarli, oppure si apre un fondo di investimento, si raccolgono fondi dagli investitori e ci si fa pagare un bel po' di commissioni per gestire gli investimenti. Come potete immaginare, il secondo metodo è molto più efficace. La Buffett Partnership altro non è che un fondo di investimento, costituito da Buffett assieme a un gruppo di amici e parenti. Il giovane Warren è un uomo ambizioso, vuole diventare ricco, ma è anche un uomo integerrimo. Quando lancia la Buffett Partnership, Warren offre i suoi partner delle condizioni molto vantaggiose. Intanto Warren investe quasi la totalità del suo patrimonio nella partnership e inoltre, per allineare ancora di più gli interessi dei suoi partner con i propri, stabilisce che gli spettano commissioni solo se il ritorno del fondo per un dato anno è superiore al 6% e ogni punto percentuale sotto al 6% gli viene riportato all'anno successivo. Cosa significa? Se un anno fa il 5%, l'anno dopo deve fare oltre il 7% o non vede un dollaro. Mica male, eh? Buffett è sicuro di sé, perché ha imparato dal suo mentor Benjamin Graham la tecnica del value investing, che lui chiama dei mozziconi di sigaro. Vedi un mozzicone di sigaro lasciato lì, lo prendi, ci dai una tirata, una sola, ma è gratis. Questo è lo spirito del value investing, comprare aziende che palesemente valgano di più di quello che costano. È ovvio dirlo, ma Warren fa tanti soldi con il value investing. Un esempio è Sandmore Map, una società che faceva mappe di città per le assicurazioni incendio. Fondata nel 1866, ha il monopolio per tanti anni e investe i proventi in un portafoglio di azioni e obbligazioni. Quando Warren la nota nel 1958, le cose sono cambiate e Sandmore Map continua a perdere clienti. Il mercato sconta l'azione a 45 dollari, ma Warren si accorge che il portafoglio di investimenti di Sandborn da solo vale 65 dollari ad azione. In men che non si dica compra il 23% dell'azienda e rompe le scatole al management perché distribuisca i proventi del portafoglio agli azionisti. Se ne esce due anni dopo con un ritorno del 50%. Nel 1959 un amico e partner di Warren gli dice c'è una persona che devi assolutamente conoscere, è così uguale a te che mi sono affidato a darti soldi perché mi ricordi lui. È un avvocato di Los Angeles, ma è originario anche lui di Omaha e adesso è qui in città per il funerà del padre. Dovremmo proprio andare a cena tutti insieme di queste sere. E fu così che Warren Buffett conobbe Charlie Munger, incontro che cambiò per sempre il destino di entrambi e oserei dire del mondo finanziario. Ed è a questo punto che succede qualcosa di inaspettato. Warren prende la sua ormai enorme ricchezza e si compra una manifattura tessile, Berkshire Hathaway. Ma perché? Per quanto Warren Buffett sia considerato un maestro, è chiamato l'oracolo di Omaha perché molte delle sue spiegazioni erano e restano criptiche. Quando gli si chiede perché abbia comprato Berkshire Hathaway, Buffett risponde che è stato un errore. Nella lettera agli investitori della Buffett Partnership, Buffett dice che ha comprato Berkshire perché vuole andare in pensione, è stufo di fare finanziere e vuole mettersi a fare solo il businessman. Entrambe le spiegazioni sono poco credibili. Fai un errore e lasci il nome in bella vista per 60 anni? Vai in pensione e costruisci un colosso da 600 miliardi di capitalizzazione? La mia opinione è che Buffett doveva fare un salto di qualità. Battere il mercato nel lungo termine sappiamo che è un'impresa titanica e Buffett lo sa benissimo. Sa che se continua così non riuscirà ad eccellere ancora per molto. Ha bisogno di qualcosa di diverso, ha bisogno di creare un veicolo di investimento la cui struttura gli dia un vantaggio competitivo nel mercato finanziario. E qui arriva l'idea. Berkshire è un'azienda tessile in difficoltà, piegata dalla concorrenza straniera. Ma è un'azienda grande sottovalutata da cui si può ancora estrarre un bel po' di liquidità. Buffett acquisisce il controllo di Berkshire nel 1965, ci lavora su per qualche anno e due anni dopo usa la liquidità di Berkshire per acquisire la sua prima società di assicurazioni, NICO, la National Indemnity Company. Stava cominciando l'ascesa dell'oracolo di Omaha. Lascio continuare a DC, ma sulle assicurazioni ci torniamo tra un attimo. Tra l'altro è proprio in questi anni che Warren comincia a riversare la sua voglia di insegnamento e di didattica nelle sue mitiche lettere agli azionisti in cui in modo criptico e metaforico svela i suoi ragionamenti, le sue previsioni, le sue strategie di investimento. Ed ecco che, come dicevamo, comincia a essere chiamato, anche per quelle lettere così oscure ma dense di informazioni precise, l'oracolo. Ai meeting con gli azionisti si porta pure il suo ukulele personalizzato e si mette spesso a suonare e nessuno si permette di dirgli di smettere. In qualche modo non si dimentica neanche delle sue origini e del suo vecchio lavoro come porta giornali del Washington Post. Se ne compra un bel pezzo infatti ed entra nel consiglio di amministrazione del giornale e fa lo stesso anche con altri giornali e con il canale televisivo ABC. E poi Coca Cola, di cui compra una montagna di azioni, Exxon e Geico. Eh già, Geico, quella mostruosa assicurazione in cui il giovane Warren si era infiltrato a furia di bussare sulla porta. Warren aveva visto qualcosa in quel business, ve lo ricordate? Aveva avuto un colpo di genio, un altro fra i tanti, ma forse il più importante di tutti. Come si fa a fare i soldi? Si può lavorare? Si può investire in broccarla giusta? Oppure qualcuno ce li può dare? Buffett capisce che il modo migliore che ha per sperare di battere il mercato con una certa costanza è molto semplicemente quello di avere qualcuno che ogni anno gli dà più soldi. Vi ricordate che nel 1970 Buffett aveva comprato Nico, la sua prima assicurazione? Come funziona il business delle assicurazioni? Se avete un'auto ogni anno pagate il premio l'assicurazione? Se non avete incidenti, l'assicurazione non vi dà indietro niente. Vi siete mai chiesti dove vanno a finire questi soldi? Il totale dei premi che i clienti pagano alle assicurazioni si chiama flottante. È un'enorme massa di denaro che le assicurazioni ricevono ogni anno. Cosa ne fanno? Lo investono. Le assicurazioni hanno al loro interno dei giganteschi portafogli di investimento. Visto che sono soldi non proprio loro, ma che potrebbero dover dare indietro in danni, le assicurazioni investono soprattutto in obbligazioni, per lo più titoli di stato. Per quel poco che investono a lungo termine, comprano immobili. Buffett capisce che il business delle assicurazioni si può gestire meglio e quando compra Nico fa di tutto perché il flottante resti il più a lungo possibile all'interno di Berkshire. Berkshire è così capitalizzata che Buffett può usare il flottante di Nico per investire non in obbligazioni, non in immobili, bensì in azioni. E così facendo Berkshire si ritrova da un lato ogni anno con un eccesso di liquidità e dall'altro con un investitore geniale che può mettere a frutto questa liquidità nell'asset con il rendimento atteso più alto. Le aziende. Buffett non fa sconti a nessuno. Se le azioni sono apprezzate bene compra quelle. Se invece le azioni costano tanto si butta nel private equity e porta dentro intere aziende non quotate. Berkshire diventa una macchina da soldi che come un orologio svizzero batte il mercato per più di 50 anni. Oggi l'impero delle assicurazioni all'interno di Berkshire Hathaway si chiama appunto Geico, la storica assicurazione di cui Buffett ha finalizzato l'acquisizione nel 1996 e che da sola vale qualcosa come 200 miliardi di dollari. Sapete quant'è oggi la liquidità all'interno di Berkshire tra flottante di Geico e dividendi delle controllate? 150 miliardi di dollari. decisamente un bel vantaggio competitivo per battere il mercato. In tutto questo il miliardario, genio degli investimenti, vive nella stessa solita casa nonostante ne possiede anche una da 4 milioni a Laguna Beach, guida la stessa macchina, fino all'anno scorso non aveva nemmeno uno smartphone, alla fine si è arreso però un iPhone 11, non ha il computer e giura di aver mandato una sola mail in tutta la sua vita. Non spende, non spande, non ha una vita da riccone esuberante. Si è concesso solo un jet privato nuovo nel 1989 che ha chiamato The Indefensible, perché un tocco di esuberanza in effetti ci voleva. Di base se ne sta a casa, legge il giornale, anzi 5 giornali al giorno, gioca a Bridge da semiprofessionista, guarda il football in tv, beve litri di coca cola di cui è un avido bevitore e se ne va a letto presto come un nonnetto qualsiasi. Poi si sveglia la mattina, va al lavoro e azzanna alla gola il capitalismo mondiale come uno squalo bianco veterano, super predatore in cima alla catena alimentare della finanza internazionale. Ad oggi Warren Edward Buffett non è considerato solo il più grande investitore di tutti i tempi, ma un vero maestro che ha formato e influenzato generazioni di economisti, imprenditori, affaristi, esperti di finanza. Ha poi fatto sentire la sua voce anche in politica, sostenendo Obama prima, Hillary Clinton poi, appoggiando la riforma del sistema sanitario, attaccando ferocemente Donald Trump, scagliandosi contro i monopoli sul gioco d'azzardo, definito una tassa sull'ignoranza. Nel 2006 si è lamentato pubblicamente di pagare troppo poche tasse, solo il 19%, famosissima la sua frase in merito. Come può essere ecco questo? C'è una guerra di classe, è vero, ma è la mia classe, quella dei ricchi, che sta facendo guerra e stiamo vincendo. Nel 2007 ha testimoniato davanti al senato insistendo che venisse mantenuta la tassa sugli immobili per evitare ulteriore strapotere ai ricchi. Non solo, ma la sua mente instancabile ha cominciato in vecchiaia a dedicare sempre più spazio e risorse alla filantropia. Influenzato dall'incontro e dall'amicizia con Bill e Melinda Gates, in termini numerici i filantropi più importanti della storia, Warren ha cominciato a devolvere la sua smisurata ricchezza a progetti benefici e ha annunciato che donerà oltre l'85% del suo patrimonio a fondazioni e progetti sociali. Non è mai facile inquadrare personaggi del genere, giganteschi in termini di soldi, fama, successo, abilità, intelligenza, ma anche controversi in qualche modo, perché ci fanno pensare alle storture del nostro sistema e alle aberrazioni a cui possono portare. Ma una cosa è certa, nonostante tutti i discorsi che possiamo fare, a 91 anni suonati, Warren Buffett continua a vincere e non sembra avere alcuna intenzione di smettere.